Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Quest'oggi è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza nelle acque del Maira, trovato anche un biglietto. Quest'oggi, come riportato dalla stampa.it, è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza, recuperato nelle acque del Maira, a cavaller maggiore. Stando a quanto si apprende, il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella zona del ponte, sulla provinciale per Monasterolo di Savigliano. Le ricerche erano cominciate stamattina dopo la segnalazione della scomparsa di una ragazza di 15 anni. Una volta ispezionato il fiume, le ricerche si sono concentrate nella zona della centralina idroelettrica, allo scopo di rendere meno complicate le operazioni. Gli impianti sono stati disattivati e il corpo senza vita della quindicenne è stato trovato all'interno delle vasche dell'impianto. Stando a quanto si apprende, il personale del 118 avrebbe provato in ogni modo a rianimare la ragazza, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sulla base di quanto si apprende, la studentessa trovata morta avrebbe lasciato un messaggio ed è proprio su questo particolare che in queste ore si stanno concentrando le indagini allo scopo di ricostruire quanto è successo. Accanto allo zaino, infatti, vi era un biglietto, probabilmente scritto dalla ragazza prima di gettarsi nel torrente. Il messaggio conteneva delle parole di scuse in lingua indiana. Proprio questa, infatti, è la nazionalità della quindicenne, il cui padre si trova da tempo in Italia, lavora in un allevamento, mentre lei sarebbe arrivata nel nostro paese solo lo scorso anno. I carabinieri stanno analizzando il contenuto dello zaino, oltre che il biglietto, allo scopo di ricostruire i fatti. Nelle prossime ore ascolteranno i genitori e, probabilmente, anche gli amici della vittima e della sua famiglia.